Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube Marco Zanin oppure se state vedendo questo video dal mio sito internet zaninmarco.com benvenuti anche da lì Oggi video velocissimo ed andremo a vedere una cosa fondamentale con questo Oggi andremo a parlare della vita media di una persona che tutti sanno che è stimata a 75 anni e tu dici beh, ne ho di tempo davanti non ti preoccupare adesso cominciamo a togliere solo il fatto che le persone pensino che la mezza età sia 50 anni è una bella bufalata perché se l'età media è 75 anni con un po' di matematica si capisce che l'età media in realtà è 37-38 anni e quindi se hai tra i 37-38 anni puoi notare che questo è quello che ti rimane per vivere però in realtà non è quello che ti rimane per vivere perché un terzo, ovvero 12 anni, lo utilizzi per dormire se una giornata è fatta 24 ore e ne dormi 8 questo è quello che ti resta però no, non è ancora finita perché dobbiamo togliere un altro terzo perché ti dovrai sostenere in qualche modo e quindi lavorare se fai un lavoro da 8 ore al giorno dobbiamo togliere un altro terzo dalla tua vita quotidiana e quindi togliamo altri 12 anni e andiamo a 62 anni e questo è quello che realmente ti rimane per vivere sei ancora sicuro o sicura di avere tempo?